L'amministrazione separata dei beni uso civico della frazione aquilana di Tempera ha inviato una lettera aperta al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, sollecitando un incontro urgente per discutere delle problematiche della frazione e per definire un piano di interventi nell'ambito del bilancio pluriennale 2025-2027. L'amministrazione separata ha espresso profonda preoccupazione per la mancanza di investimenti nella frazione, in particolare per quanto riguarda la riserva naturale sorgenti del fiume Vera. Nonostante l'importanza di quest'area protetta, non sono stati stanziati fondi per la sua manutenzione e valorizzazione. L'associazione ha inoltre sottolineato l'importanza di una maggiore collaborazione tra istituzioni e cittadini, proponendo una serie di iniziative congiunte per migliorare la qualità della vita a Tempera. In particolare, l'amministrazione separata si è detta disponibile a partecipare finanziariamente ai progetti di interesse comune. Ci aspettiamo che l'amministrazione comunale di ascolto alle nostre richieste e si impegni a valorizzare il nostro territorio, ha dichiarato il presidente dell'amministrazione separata. Siamo pronti a collaborare per trovare soluzioni concrete e durature.